L'università trasloca muraglia, da lunedì via alle lezioni. Spaccio di droga, appesero quattro clandestini espulsi in una settimana. Politica, il centro-destra sfiducia l'assessora Conti. Emergenza a casa, tarderanno tre anni gli 80 appartamenti previsti a Villa Ceccolini. La nuova WL sfila nell'apertura di Battiti Festival. Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è venerdì 22 settembre e apriamo questa edizione accendendo i riflettori su un'altra novità nel panorama dell'istruzione pesarese, ossia quella dell'università. Pesaro Studi è diventata quest'anno un polo interamente scolastico e i corsi di laurea vengono trasferiti interamente nel quartiere di Muraglia. Lunedì inizia l'anno accademico e vediamo gli ultimi preparativi logistici in questo nostro primo servizio. I primi studenti hanno già cominciato ad appropriarsi dei nuovi spazi. Fra pochi giorni arriveranno anche gli altri quando lunedì 25 settembre partiranno ufficialmente i corsi della sede universitaria distaccata di Pesaro che sta completando i traslocchi da Via Le Trieste a Via Petrarca nella sua nuova destinazione a Muraglia. Da questo settembre Pesaro Studi sul Lungomare è infatti diventato un polo scolastico al 100% per i trasferimenti degli studenti della Dante Alighieri e della Mascarucci spingendo gli studenti universitari nella sede del quartiere 7 Muraglia Montegranaro che si sta riarredando con i materiali presenti a Pesaro Studi. Alcune aule sono già pronte, altre lo saranno nelle prossime due settimane per accogliere oltre 150 studenti nei corsi proposti a Pesaro dall'Università di Urbino e dalla Politecnica delle Marche. Riprendiamo il 25 con l'inaugurazione dell'anno accademico anche se in questi giorni sono già attive alcune lezioni nei nuovi locali dell'Università Muraglia. Il centro civico è stato completamente ristrutturato e riadattato alle esigenze dell'Università. Gli arredi sono quelli di Pesaro Studi e gli ambienti sono stati già riattivati per consentire le lezioni. In tutto, quando tutti gli spazi saranno recuperati, saranno 7 aule per l'Università con spazi per gli uffici e anche una zona verde in cui i ragazzi, nonostante la lontananza dal mare, potranno studiare. Abbiamo avuto anche una risposta abbastanza positiva da parte dei ragazzi ma anche dei professori. C'è stato un lavoro di squadra di tutti gli uffici perché in 60 giorni è stato fatto un lavoro che di solito viene fatto forse in sei mesi. Noi come Comune stiamo cercando anche di dare i servizi. Abbiamo contattato anche le imprese del territorio per poter dare ai ragazzi anche dei prezzi calmerati se hanno bisogno di andare a mangiare o comunque consumare intorno all'edificio. È un edificio che si presta. Siamo riusciti a trovare la giusta soluzione e di questo sono soddisfatta anche perché comunque l'Università in questo modo può andare avanti. Il trasloco dell'Università ha portato alcune modifiche alle attività preesistenti nella struttura di Via Petrarca. Abbiamo ottimizzato gli spazi, abbiamo spostato alcune associazioni, abbiamo spostato la biblioteca, è stata portata nel quartiere di Villa Fassigia e devo dire che anche in questo c'è stato un lavoro di squadra con tutti i quartieri. Di conseguenza gli spazi sono stati modificati anche all'interno e l'anagrafe viene spostata al lato, quindi non ci sarà difficoltà per i cittadini che devono andare a fare i certificati. La polizia lo stesso rimarrà sempre nell'edificio di fianco e il quartiere lo stesso avrà in condivisione con altre associazioni che sono rimaste nel luogo per poter incontrare un consiglio di quartiere. Abbiamo trovato anche la soluzione in questo senso. Ed ora passiamo alla cronaca. Una settimana intensa nel contrasto allo spaccio di droga nella città di Pesaro. Gli agenti della Questura hanno effettuato quattro espulsioni dal territorio di altrettanto pluri pregiudicati. Soltanto nel corso dell'ultima settimana nella città di Pesaro sono stati espulsi quattro cittadini extracomunitari irregolari sul territorio. Espulsioni avvenute mediante l'accompagnamento da parte del personale della Questura in vari centri di permanenza per il rimpatrio dislocati fra Puglia, Lazio e Sardegna. Tutte e quattro le espulsioni risultano legate a reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. La prima espulsione ha riguardato un albanese di 62 anni che aveva appena concluso il periodo di carcerazione dopo una condanna a più di tre anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, ma noverava precedenti anche per reati contro la persona. Il secondo espulso è stato un gambiano di 26 anni rintracciato dalla Questura all'interno del parco Miralfiore e risultato irregolare sul territorio, oltre che pluri pregiudicato in materia di stupefacenti, lesioni, resistenza, furto e violazioni della legge sulle armi. Sempre al Miralfiore è stato rintracciato un nigeriano di 33 anni che annovera numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Risale invece alla scorsa notte l'espulsione di un marocchino di 31 anni con precedenti per furti, lesioni, minacce che aveva appena concluso il periodo di carcerazione ma che era stato sorpreso a spacciare mentre era ristretto agli arresti domiciliari. Ed ora passiamo alla politica perché i consiglieri comunali pesaresi di Lega, Prima Cepesaro, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto annunciano di aver protocollato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla sostenibilità Maria Rosa Conti. La mozione chiede al Consiglio di votare la sfiducia alla Conti revocandone l'incarico di assessore conferito dal sindaco Ricci lo scorso gennaio. Nella mozione si legge come, secondo i consiglieri di centro-destra, la Conti si stia dimostrando inadeguata a ruolo mostrando non curanza delle regole, conflittualità con i colleghi di giunta e assenza di strategie nelle politiche ambientali della città. Accuse rivolte anche al sindaco che, per i consiglieri, avrebbe nominato la Conti soltanto per assecondare logiche di alleanze nazionali del Partito Democratico con Europa Verde. Dall'opposizione passiamo alla maggioranza di centro-sinistra che invece ha chiesto ufficialmente la convocazione di un consiglio monotematico sulla sanità. A distanza di un anno e mezzo dal precedente consiglio sulla riforma sanitaria, viene dunque di nuovo proclamata la presenza a Pesaro del governatore Acquaroli, così come dell'assessore della sanità, Salta Martini, e della direttrice dell'azienda sanitaria provinciale, Nadia Storti. Interlocutori inviati a fare chiarezza sui ritardi nel cronoprogramma del nuovo ospedale di Muraglia e sui trasferimenti dei reparti sui quali resta ancora una nube di incertezza. Una brusca frenata nel contrasto all'emergenza casa. A Villa Ceccolini era attesa fra pochi mesi la consegna di circa 82 appartamenti a basso canone d'affitto nel primo progetto di housing sociale realizzato a Pesaro. Ora però i lavori sono stati interrotti e le case potrebbero essere consegnate con tre anni di ritardo. Rischiano di dover aspettare altri tre anni le famiglie inserite in graduatoria per beneficiare degli 82 appartamenti che a breve avrebbero dovuto vedere la luce a Villa Ceccolini nel primo progetto di housing sociale proposto dal comune di Pesaro. Ovvero 82 soluzioni abitative in basso canone d'affitto, quale risposta a una crescente emergenza casa in città. Una soluzione intermedia destinata a quelle famiglie che non possono permettersi affitti agli attuali costi di mercato, ma che allo stesso tempo non versano in condizioni di povertà sufficienti da disporre dei requisiti di assistenza dei servizi sociali. Da maggio 2020 il cantiere ha appaltato alla società Dea Capital Real Estate legata al fondo Civitas Vite al quale il comune ha affidato la realizzazione del nuovo polo residenziale collocato fra Via Lago Maggiore e Via della Tecnica. La ditta, incaricata dei lavori, si è però avvalsa di una proroga di tre anni prevista dalle norme dei permessi di costruzione. Lavori dunque interrotti e il comune, che nello specifico a Mila della Dora come assessore di riferimento, è stato costretto a sospendere la graduatore in essere che prevede 70 assegnatari riaggiornandola al completamento dei lavori. Comune che cerca anche una mediazione per provare ad accorciare i tempi in un progetto che non solo può dare un tetto a 500 persone, ma che prevede anche una riqualificazione in termini di viabilità, parcheggi e nuove attività economiche. A otto mesi dal suo ingresso in Confesercenti come responsabile sindacale, Davide Ipaso è stato nominato oggi dall'Associazione di Categoria come nuovo direttore della sede di Pesaro. Una carica precedentemente ricoperta da Alessandro Rigurgo, il quale manterrà il suo ruolo di direttore Confesercenti per l'intera provincia di Pesaro Urbino. Domani il cammino di Pesaro, capitale della cultura 2024, muove un altro importante passo nel coinvolgimento dell'intero territorio provinciale. Anche le nostre telecamere saranno presenti alla Torre del Girone di Peglio, dove in occasione di Appennino Festival dell'Entroterra verrà presentato il progetto 50x50 capitali al quadrato, progetto che dalle 10 sarà illustrato da sindaco e vice sindaco di Pesaro, Matteo Ricci e Daniele Vimini e dal direttore di Pesaro 2024, Silvano Straccini, alla presenza di sindaci e referenti dei comuni della provincia. E la capitale della cultura fa la sua parte anche nelle cucine internazionali. Il 26 e 27 settembre lo chef Roberto Dormicchi, docente dell'Istituto Alberghiero di Piobico, rappresenterà Pesaro 2024, proponendo a Hong Kong un piatto dedicato a Gioachino Rossini, in occasione di Degusto, una rassegna in cui saranno promosse oltre 500 eccellenze italiane da proporre sul mercato asiatico. Domenica 24 settembre torna invece l'appuntamento con i versi di Dante Alighieri. A Fiorenzuola di Focara, Vivi Dante, il maestro, vedrà protagonista una lunga maratona di lettura dei canti più suggestivi della Divina Commedia, a partire dalle 15.30. Ad accompagnare le letture ci saranno le melodie, i passi di danza dell'associazione culturale la fabola saltica di Gradara. E domenica 24 settembre ricorre anche la giornata del patrono di Pesaro, San Terenzio, primo vescovo della storia della città. E allora a partire dalle 18, Rossini TV vi trasmetterà in diretta dal Duomo la Santa Messa di Concelebrazione Eucaristica, ufficiata dall'Arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci. La funzione sarà preceduta alle 17 dalla tradizionale processione con l'Urna del Santo, che da Via Rossini muoverà verso corso 11 settembre, Via Mazza, Via Passeri, Via Branca e Piazza del Popolo, prima di fare il suo ingresso nella cattedrale. Domani, 23 settembre, ricorre invece la Giornata Europea del Patrimonio, un appuntamento promosso dal Ministero della Cultura, che come ogni anno sfocia in iniziative organizzate da Archivio di Stato e Biblioteca Oliveriana. Vediamo. Il 23 e il 24 settembre si celebrano in tutta Europa le Giornate Europee del Patrimonio. È un evento che in Italia è promosso dal Ministero della Cultura, come ogni anno abbiamo pensato ad un percorso per quanto riguarda la città di Pesaro, un percorso per le vie cittadine dedicato a un tema specifico, quello delle collezioni scientifiche che hanno aiutato ad apprendere generazioni di studenti nelle scuole di Pesaro. La collaborazione è con Etra, Entra nell'arte, e Antonella Michaletti, e quest'anno abbiamo collaborato anche con due scuole, l'Istituto Tecnico Agrario Cecchi e il Liceo Marconi. Abbiamo elaborato un percorso che tutti possono effettuare online grazie al sito Almaloci e grazie alla piattaforma Easy Travel dedicato appunto alla conoscenza, all'esplorazione delle collezioni scientifiche che sono nate a Pesaro subito dopo l'Unità d'Italia, in alcuni casi anche prima, e che tuttora vengono arricchite, quindi si parla anche di collezioni moderne nelle nostre scuole. Come al solito collaboriamo con la Biblioteca Oliveriana di Pesaro, quest'anno abbiamo avuto la partecipazione anche dell'Accademia Agraria in Pesaro e dell'archivio di Gabriele Stroppanobili. La Wallscape di quest'anno, del 2023, per le giornate europee del patrimonio, o vede dei protagonisti d'eccezione che sono gli studenti di alcune scuole di Pesaro. Invece di strutturare l'intero percorso e quindi anche i contenuti, come sempre ha fatto l'associazione ETA, noi abbiamo invece fatto da coordinatori rispetto al lavoro che invece è stato completamente svolto dai ragazzi. Quindi è stato, speriamo, molto formativo dall'aspetto più di contenuto e di studio a quello più tecnico. Come si costruisce un percorso, come si costruisce un Wallscape e come si realizza, effettivamente, per poterlo poi pubblicare sulla piattaforma almaloci.com, dove poi è disponibile per tutti gratuitamente in modo da poter rifare il percorso liberamente. Quello di domani, quindi, alle 17.30 agli Ortigiuli, c'è l'appuntamento dove ci presentiamo e facciamo un po' un'introduzione al lavoro per poi andare in archivio, dove invece verranno presentati i documenti, verranno presentati tutto il percorso su almaloci, perché sarà impossibile farlo andando direttamente nelle scuole, ma è importante che questa volta si faccia in un luogo, diciamo, circoscritto, proprio perché vogliamo lasciare anche in quell'occasione spazio agli studenti per raccontare cosa hanno fatto. Sinteticamente vorrei dire che l'esperienza è stata, secondo me, particolarmente importante perché a partire dallo studio di queste collezioni scientifiche all'interno delle scuole i ragazzi hanno veramente compreso più da vicino la specificità della loro scuola e confrontata con la scuola degli altri. Quindi c'è un lavoro di identità rispetto alla propria formazione che credo sia veramente importante. Al Parco Miralfiore di Pesaro è partita ieri la prima edizione di Battiti Festival, Festival della Cultura e Filosofia dello Sport. A caratterizzare l'apertura della rassegna è stata la presentazione della VL a dieci giorni dal via del campionato di Serie A di basket. Giusto partire con la VL perché oggi la VL rappresenta Pesaro nel basket a livello nazionale, rappresenta la città come l'ha rappresentata per tanti anni. Quindi c'è una storia dietro la VL, una storia del basket cittadino, del basket italiano e anche del basket internazionale. A me è estremamente cara perché io sono cresciuto nella VL, anzi ho iniziato con la VL, si può dire, la mia carriera lavorativa come fisioterapista e quindi sono sinceramente molto affezionato e devo ringraziare la VL per gli anni che ho passato con loro e per l'esperienza che ho potuto fare. E quindi era giusto secondo noi partire con la VL e sarebbe stato bello anche coinvolgere qualcuno del mondo dei motori ma purtroppo in questo weekend sono fuori e quindi non ci siamo riusciti. Vedremo il prossimo anno magari se prendere un weekend dove potremo avere anche qualche campione di questo tipo. Non è un festival che è nato quest'anno perché sia un'edizione diciamo così sporadica. È nato quest'anno proprio con l'idea di fare un'edizione il prossimo anno, nel 2024, proprio perché Pesaro sarà capitale della cultura e quindi non volevamo arrivare impreparati al 2024, volevamo anche noi avere un anno di prova che era un anno prima del 2024 e quindi è giusto dire ci siamo quest'anno e vi aspettiamo anche il prossimo anno. L'avventura sta andando bene perché è cominciata con una grande unione di intenti, è cominciata sotto una voglia di fare bene. La cosa che non è mai scontata è il fatto che ci troviamo bene tra di noi, lavoriamo bene, i ragazzi stanno bene insieme, si piacciono. Stiamo lavorando dal ritiro di Carpegna con grande attenzione ed edizione, piano piano stiamo riuscendo anche non solo a migliorare l'amalgamo ma anche ad avere un buon approccio con quello che dobbiamo fare, quindi piedi per terra, il metto in testa, anche la capacità di superare momenti difficili o errori. La squadra da quel punto di vista segue ed esegue. Abbiamo giocato senza o con qualcuno senza problemi, tutti coinvolti, queste sono cose che sembrerebbero semplici ma non sono scontate. Quando le hai vuol dire che hai una base sulla quale poi tecnicamente e tatticamente puoi lavorare bene. Io mi trovo molto bene, io credo e spero, voglio che questa squadra, noi dello staff, si sia veramente all'altezza di quello che respiri in una città come questa, perché solo queste città ti possono dare quell'emozione lì, ti possono dare l'idea di, sai, wow, sono in un posto di basket, quindi il sostegno che abbiamo è una cosa che è imprescindibile anche perché ci dà, a parte la responsabilità, ma anche la carica, per cui devo dire che da quando stiamo lavorando lo stare qui è veramente bello. Bellissima occasione per parlare di educazione, di filosofia e di etica, perché lo sport insegna, insegna soprattutto a conoscere se stessi, ma anche noi stessi all'interno delle squadre, di un qualsiasi nucleo, anche quello familiare. E quindi nel momento stesso che insegna, noi riusciamo a superare i nostri limiti, quelli sportivi, a conoscerli, ma anche quelli interpersonali. E questo è fondamentale perché lo sport raccoglie tantissimi valori, che sono quelli della vita, che sono il coraggio, la forza, la passione, l'impegno, la costanza. E questo è fondamentale per crescere sani e anche da adulti per ricordarselo sempre. Ricordare che i valori della vita sono i valori dello sport e viceversa. Continuiamo a parlare di sport ricordandovi che domani arriva il primo appuntamento ufficiale della stagione di Calcio a 5, Italservice. I pesaresi possono già puntare a un trofeo, essendo fra le quattro squadre, che hanno diritto a giocarsi la Supercoppa. Domani alle 17.30 al pala maggiore di Leini, in provincia di Torino, l'Italservice giocherà in semifinale contro la Fel di Eboli, campione d'Italia in carica. In caso di vittoria, finalissima domenica alle 18.15 contro la vincente fra Torino e Roma. È vigilia di campionato invece per la Vispesaro, che domani alle 20.45 sarà in scena a Gubbio per la quinta giornata della Serie C, un match che arriva a quattro giorni dalla prima vittoria stagionale della Vis ottenuta contro Lentella. Eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale, carissimi amici, in questa edizione del venerdì. Andiamo a vedere però la programmazione su Rossini TV. Perché questa sera alle 21.20 vi mostreremo la commedia teatrale dell'Associazione Culturale Stella di Macerata, l'isola che non c'è. E poi vi ricordiamo che domani torna la nostra rassegna stampa alle 7.20, quindi vi aspettiamo in diretta sul canale 80 e anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet. E poi sabato alle ore 21.00 e domenica alle ore 14.30 trasmetteremo il convegno diocesano 2023. Si avvicinò e camminava con loro. Giovani famiglia, strutture pastorali, iniziazione cristiana e catechesi, formazione e ministeri, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Pesaro. E poi domenica per il Santo Patrono di Pesaro trasmetteremo in diretta alle ore 18.00 sul nostro canale la Santa Messa, le celebrazioni chiaramente del Patrono di Pesaro. Ho detto davvero tutto, io vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend. Il telegiornale, come sapete, tornerà lunedì alle 19.30. Grazie.